Buonasera, siamo i rappresentanti dell'Istituto Superiore Mario Vitelli di Palermo, io sono il mio segnolo Federico, qui abbiamo i litori Francesco, il Salvatore Lavantia e il Danilo Dostolici. Ci troviamo qui oggi perché noi dei rappresentanti insieme all'elesto del corpo studentesco abbiamo occupato la nostra scuola per una serie di motivi. Il motivo principale è la succursale perché noi conviviamo da più anni, siamo costretti a convivere con dei problemi che sono di gestione interna perché siamo costretti a fare dei turni pomeridiani o delle uscite posticipate alle tre perché mancano delle aule e quindi non si possono andare a smistare in altre classi le classi che mancano. Nell'Istituto ci mancano all'incirca di 10 classi e la nostra protesta è finalizzata alla succursale che comunque già ci stanno dando ma ci stanno dando solo 6 classi sulle 12 che ci servono. Ripeto che stiamo occupando la nostra scuola perché noi abbiamo bisogno di queste 12 aule e anzi abbiamo bisogno di tutte le aule perché ci saranno i laboratori, la vicepresidenza, gli uffici dei professori e quindi abbiamo bisogno di avere una succursale completa di tutte le classi che possiamo avere a disposizione.